e abbiamo deciso anche quest'anno di riservarlo tra virgolette solo alle squadre dell'oratorio e alla squadra della sua palestra dove li frequentava e quindi possiamo procedere subito con le premiazioni premia la mamma Angela e la quarta squadra classificata è la squadra della sportiva dell'oratorio serie T quindi se stiamo vicino possono ritirare aspetta c'è la premiazione posso, posso grazie terzi classificati alla squadra della palestra oratorio che ringraziamo che partecipano sempre se stiamo vicino possono ritirare la coppa e guardare la foto se i punti classificati osi scusi osa con le serie B B Bologna 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 non ci sono grazie io penso che ricordare nel contesto della festa dell'oratorio organizzare un torneo ricordando un giovane che qui è cresciuto e diventato grande io penso sia la cosa più bella quindi davvero grazie un applauso c'è un premio anche per mamma Angela guarda grazie a tutti buona serata la festa continua dite a tutti un gloria al padre a San Giuseppe perché domani non piova come diceva il mio padre grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti